Ciao, oggi non volevo parlare di un prodotto che ho utilizzo già da tempo e che io considero il sostituto del Moroccanoil. Come sappiamo il Moroccanoil è un prodotto molto costoso di difficile reperimento o reperibilità, esatto i due, e che quindi non è facilmente accessibile. Infatti, oltre che su siti tipo Amazon, qualche altro venditore e qualche raro parrucchiere che li vende, però i prezzi sono comunque spropositati perché per una boccettina di queste dimensioni si arrivano a pagare anche 35-40 euro, diciamo che non è proprio il massimo della convenienza. Quando ho finito il Moroccanoil che avevo preso in campioncino all'incirca due anni fa al Cosmoprof, mi sono trovata nella necessità di sostituirlo con un nuovo prodotto e avevo a disposizione lo Style & Shine della Douglas, è praticamente un olio composto con Argan e Jojoba Oil o Jojoba, come lo volete dire, e che ha appunto la funzione di ristrutturare la fibra dei capelli e che utilizza esattamente come utilizzavo il Moroccanoil, nel senso capelli bagnati solo sulle punte e lo vado ad applicare una piccola noce, quindi all'incirca una, quello lì, la quantità che può riempire la conchetta della mano, che è all'incirca una pompettata e poi lo vado a sfregare delle bagno e lo applico sulle punte e i capelli sono immediatamente più domabili, più leggeri, più lisci e anche le cuticole e le eventuali doppie punte dei capelli migliorano moltissimo e quindi appunto volevo consigliarvelo come dupe. Allora, io il primo campioncino, il primo campioncino, il primo confezione mi era stata regalata a Douglas, mi era stata regalata a Douglas in quanto componente dell'officina di bellezza di Douglas, però poi come l'ho terminato l'ho ricomprato, quindi comunque è un prodotto con cui mi ci sto trovando bene, per questo motivo ve l'ho voluto presentare. Allora, sono 50 ml, lo trovate in tutti gli store Douglas della linea Air e costa all'incirca 10 euro, con la tessera Douglas vi fanno anche lo sconto e quindi lo andate a pagare forse qualche centesimo o meno di 10 euro. Dura molto perché appunto ne basta semplicemente una pressione e vi ho spiegato già anche come lo utilizzo, quindi semplicemente applicandolo sulle punte bagnate. L'ho utilizzato anche sulle punte asciutte, però credo che comunque il primo tipo di applicazione abbia i maggiori risultati. È un olio, come vedete è un olio molto denso, infatti questo l'ho quasi terminato comunque, è un olio molto denso e che per questo non scivola via subito dai capelli, è facilmente comunque modulabile e facilmente stendibile in modo omogeneo su tutti i capelli. Spero quindi che vi possa essere d'aiuto in caso utilizzate il Moroccano e vogliate un sostituto, perché comunque sta sempre bene risparmiare e spero di avervi dato un consiglio utile. Ha anche la funzione di anti fritz, quindi comunque anticrespo e che anche questo soprattutto perché le ragazze con capelli ricci o comunque mossi è sempre una buona cosa, perché comunque il riccio spesso tende ad essere un pochino crespo, ma comunque io anche avendo i capelli lisci soprattutto nei punti tendono ad andarsene per conto loro e quindi comunque fa sempre bene. E detto questo spero di esservi stata utile, di avervi dato una dritta economica e soprattutto sostitutiva del Moroccano. Fatemi sapere qui sotto se lo utilizzate, se l'avete utilizzato e come vi siete trovate e un bacio. Ciao!